Oggi parliamo di uffici relazioni con il pubblico, un punto unico, un luogo dove il cittadino si può avvicinare all'amministrazione comunale. Il Comune quindi ti informa su tutti gli orari dei servizi e degli uffici, sui responsabili dei procedimenti amministrativi, su viabilità e traffico, su concessioni, contributi, sugli eventi turistici, gli eventi sportivi e contatto possa dare i vari uffici comunali. Abbiamo il rilascio di certificazioni anagrafiche, residenze e stati di famiglia, abbiamo iscrizioni anagrafiche di cittadini che vogliono risiedere in questo territorio, cambio di indirizzo all'interno del Comune. Il Comune dalla parte del cittadino. Quest'anno, in via sperimentale, l'amministrazione comunale ha firmato una convenzione con fedeli consumatori, creando uno sportello all'interno dell'ufficio relazioni con il pubblico di Camuscia, aperto il giovedì per tutelare i cittadini consumatori. Il difensore ricettrico riceve nel Palazzo Comunale ogni primo e terzo lunedì del mese, dalle 10 a mezzogiorno. Grazie. Grazie. Grazie.